All'Istituto Agrario di Vellai è iniziato il corso per casaro professionista. Si tratta dell'ultimo passaggio dell'ampio piano azioni di formazione e promozione del settore lattiero caseario promosso dalla provincia e finanziata all'interno dei fondi comuni di confine che lo scorso anno aveva finanziato gli investimenti di 12 latterie del territorio. I corsisti che frequentano il percorso all'Istituto della Lucia sono 25 per lo più giovani o giovanissimi e già lavorano all'interno di strutture produttive o possiedono comprovata esperienza nel settore. Stanno affrontando un percorso di 84 ore di cui 16 in aule e 68 di lezioni tecnico-pratiche. I docenti provengono dall'Università di Padova, dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto e dall'attività in libera professione. Il percorso formativo si chiuderà intorno alla metà di marzo e affronterà gli aspetti qualitativi microbiologici e batteriologici del latte e del formaggio, l'utilizzo dei fermenti per la casificazione e gli aspetti legati all'analisi del latte a supporto della tecnologia casearia. Sono molto orgoglioso delle ricadute di questo progetto che ricordo ha avuto un peso complessivo di oltre 2 milioni di euro e ha portato benefici a 12 piccole latterie del territorio provinciale attraverso la possibilità di investire in dotazioni, macchinari e in impiantistica. Ora nella sua fase finale prevede la fase appunto formativa di nuove figure professionali di Casaro e anche poi una parte che riguarda la promozione dei prodotti lattiero caseari. Credo che attraverso appunto le risorse che provengono dal fondo dei comuni di confine in parte, in parte da risorse proprie della provincia, si sia creato un reale beneficio al territorio.